Che il Leonardo Cagliari non fosse alla portata dei ragazzi allenati da Toria c'era banalmente a dirlo e confermarlo quel percorso netto dei Sardi nel girone di andata con 13 successi in altrettante uscite. Lo scotto insomma è stato già pagato in questo 2017, lo 0-5 in trasferta non cambia nulla nei piedi e nella testa della squadra che rimane peraltro ancora più vicina ai play-off che ai play-out che potrebbe già a gennaio chiudere o quasi la questione salvezza con tre confronti che di certo non appaiono tutti semplici ma sono singolarmente alla portata del collettivo. Si comincia col primo impegno casalingo del girone di ritorno sabato 14 gennaio con l'Olimpia Regium di Reggio Emilia vincente all'andata pronosticata tra le protagoniste ma attualmente dietro la San Giovannese di tre punti. A seguire la trasferta dal fanalino di coda mattagnanese sommersa da Ottoreti ad ottobre e infine ancora in casa contro Genova altra pericolante che sta però risalendo lentamente la classifica. 9 punti alla portata, questo si sussurra nell'ambiente tecnico che spera dunque in una serie positiva utile davvero a chiudere anzitempo la questione permanenza in categoria visto che è vero saranno 5 le squadre coinvolte in questa disputa ma proprio per tale motivo sarà difficile vedere incontri senza significato anche a stagione quasi terminata.